Mi chiamo Vincenzo, ho 16 anni, abito qui a Scampia con la mia famiglia che mi ha insegnato che per vivere, onestamente, bisogna mai affaticare. Scampia non è gomosa, non è come tutti pensano. Le velle sono maestose. Quando giocava nel nascondino là non ti trovavano più. Cioè, tu ti nascondevi, dopo una settimana stavi ancora cercando. Ma non lo stavo visto, è bellissimo. Io sono cresciuto con tantissimi valori perché fortunatamente ho mia madre che mi ha insegnato tutto. Io per crescere Vincenzo, come tutti, mi sono fatta più che in quattro. Mi fanno arrabbiare le bugie, i traditori e se mi tocchi mia madre o la mia famiglia. Cioè, base là. Da grande vorrei fare il pasticcero. Quando faccio i dolci mi sento bene, è uno sfogo. Sono buono come il pane, però poi se mi fai arrabbiare è finito. Non metto niente, i spezzi.